Ciao ragazzi, oggi vi mostrerò che cosa faccio dopo quella qualche oletta, che nerdo col tablet, dopo essermi svegliato. Ho appena avuto un'idea, ragazzi, ragazzi, insomma, ecco, per quanto voglio anch'io che se ne vada, non vogliamo mettere anche questi spezzi in cuore. Direi che questo non succederà mai, Simon, lei non ha un cuore, quindi non puoi spezzarglielo, ma, per quanto sembra impossibile, forse ho visto una scintilla tra la signora Croner e quei disinfestatori. Ad ogni modo, ecco quello che dobbiamo fare. Andiamo a parlare con quei Russell e gli diciamo che la signora Croner ha detto che sarebbe tanto felice di invitarlo ad essere un'idea nostra, e poi andiamo dalla signora Croner e gli diciamo che abbiamo incontrato Russell e che lui ha detto che gli piacerebbe tanto rivederla. Siete sicuri di aver detto così? Poi, io mi assicurerò che Russell venga a cena a casa nostra e aiuteremo la signora Croner a creare una serata perfetta. Oh, si divertiranno così tanto insieme che lui la sposterà sicuramente in cima alla lista d'attesa e noi potremo riavere la nostra casa, tutti con tre. Ok, facciamolo. No, non si muova. E di sia proprio necessario? Sì, perché hai un buono ciglio e mi credo, questo non è divertente, e anche per me. Per tua fortuna non sono valitosa. Così sta rovinando tutto il look. Su, andi indietro a quelle spalle e stia dritta con la schiena. Ora vi presento la versione migliorata della signora Croner. Siete sicuri di questa cena? Io sono un po' nervosa. Forse non è proprio un'ottima idea. Oh, sì, ora si rilassi. Sarà una serata magica. Senti di noi. E per scaldare l'atmosfera ho selezionato della splendida musica. Simon ti dispiace. Allora, Diodor la guarderà dalle scale, per assicurarsi che non abbia cibo incastrato tra i denti. E io le assicurerò che i suoi gatti non vomitino niente di poco appetitoso mentre mangiate. Allora, Diodor la guarderà della signora Croner, sta per passare la serata che io prenda nella sua vita. Questo è mio l'elemento motutiva. Buona serata. Allora, Diodor la guarderà della signora Croner.